Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Serebria The Inside World, un gioco a cura della Minecraft Games. Tra l'altro ci hanno mandato la Origin Box, che è un'esclusiva del Kickstarter, e quindi ringraziamo veramente di cuore la Minecraft Games per avercene fornito una copia omaggio per la recensione. Il gioco è stato un Kickstarter ovviamente finanziato da morire, era uno dei giochi in assoluto più attesi. Questa è la versione inglese, Kickstarter, ma tante persone stanno aspettando la versione in italiano, per quanto sia sul sito ufficiale che su BoardGameGeek trovate già tutto quanto il manuale tradotto, interamente tradotto in italiano, perché comunque il linguaggio base del gioco è in inglese ovviamente. È uno dei Kickstarter più finanziati, era uno dei giochi più attesi, ma assolutamente più ambiziosi, perché è un gioco molto particolare, con poche miniature, ma fatte veramente bellissime, ora infatti ve le faremo vedere durante l'unboxing, ma la cosa forse che dà subito un po' in all'occhio di questo gioco, a parte la scatola immensa e il peso disumano, perché va sicuro, spesa alco al confronto, non c'è nulla, ci sono i coriandoli dentro, e quindi anche di peso e di una bella dimensione, però quello forse che salta subito all'occhio, leggendo anche commenti di altri recensori, o articoletti usciti su BoardGameGeek, è il regolamento che è un po' troppo complesso. Forse non è tanto il fatto che questo gioco abbia un regolamento complesso, quanto che è un po' un loso, ci sono veramente troppe, troppe cose da tenere a mente, ed è un gioco che per quanto abbia preso voto 8, appunto, su BoardGameGeek, secondo me andava leggermente snellito come regolamento. Comunque, ora ve lo mostro e passiamo all'unboxing. La scatola è bella grande, il disegno sopra è veramente spettacolare, e ricordo che quella che state vedendo è una versione esclusiva di Kickstarter, ed è un gioco a cura della Minecraft Games. Apriamolo. Il tabellone di gioco, ovviamente è grande, che prende tutto un tavolo e da montare, ad aprirlo tutto quanto è da montare. Al solito bustine per conservare le carte. Serebria è un gioco ambientato in un mondo fantasy molto onirico, tipo un reame dei sogni o una cosa del genere, e è un gioco che si basa interamente su emozioni positive e negative, ad esempio empatia, ansietà, armonia, amore, intuizione, e poi ovviamente ce ne sono anche altre. Vari token, segnalini vari, segnapunti e quant'altro, e le vecchie pedine, perché chi ha preso la versione Kickstarter ha le versioni proprio in 3D, che vi faremo vedere che sono la parte più bella del gioco, stampate in 3D e stupende, se no chi ha preso la versione base è normale, ce la raffigurate qui in cartoncino. Regolamento di gioco, più regolamento della modalità solo o cooperativa, perché ricordo che Serebria è un gioco PvP, comunque sconti diretti fra giocatori, e poi i vari grimori degli incantesimi, delle emozioni sia positive che negative. Il quadrante dell'origine, da mettere a centro mappa, dove dovranno essere messi tutte quante, come vedete dentro queste sfere, i punti volontà. E al centro dell'origine, come vedete c'è un buco, dove dovranno essere incastonati i vari colori delle torri, che daranno origine appunto, è una personalità, un'identità precisamente nelle regole, al mondo di Serebria, andando avanti nel gioco. Due mazzi, tra l'altro immensi, delle emozioni positive, un mazzo gloom, o di emozioni negative, essenze delle emozioni negative, contatori viola willpower, quindi della volontà, e queste rosse invece sono per i bliss, ovvero le emozioni positive. e piccole carte, sia ad aspirazione Bloom, che bliss, che sono praticamente le emozioni positive e negative. Una vaschettina in plastica, per mettere tutti quanti i token, visto che ce n'è abbastanza nel gioco. E i personaggi di Serebria, le miniature che forse sono la parte in assoluto più bella, e che esattamente rappresentano. Con le pedine arancioni, come vedete, le emozioni positive. Con le pedine blu scuro, qua sotto, con le basi blu scuro, le emozioni negative, tra l'altro rappresentate anche bene, sono veramente fatte bene e divertenti, e poi altre due miniature, qua giù in fondo, che rappresentano sempre altri tipi di emozioni. Queste sono veramente belle, e fanno venire la voglia di dipingerle. Questo che vedete, bello grande tra l'altro, che vi prenderà tutto un tavolo, o perlomeno una buona parte, è il tabellone di gioco. Ci sono due forze maggiori, che si contendono il territorio, i reami di Serebria, che sono gioia e malinconia. E queste due forze, in contrapposizione, dovranno conquistare i cinque reami, che vedete elencati qua. I cinque reami sono esattamente la vallata delle motivazioni, il salice dei valori, la trama dei pensieri, la culla dei sensi, e la landa dei desideri. Ogni forza ha come agenti degli spiriti, in grado di evocare delle emozioni, emozioni forti, ma come vi ho detto prima, anche emozioni contrastanti, che messe tutte quante insieme, daranno battaglia, e plasmeranno l'identità, appunto, del reame di Serebria. Ora vi spiego un po', a grandi linee, come si sviluppa una partita, perché come vedrete, nella recensione finale, Serebria è un gioco bellissimo, forse uno dei più belli, usciti finora su Kickstarter, e anche usannato da Board Game Geek, ma ragazzi è veramente troppo, troppo, troppo complicato, l'hanno voluto complicare all'inverosimile, che potrebbe essere un punto negativo per me, giocatore magari più da zombie side, e da giochi del genere, ma un punto positivo per quegli hardcore gamer, che cercano un gioco un po' più complesso. Serebria è un gioco a squadre, come detto precedentemente, e ad obiettivi, dove le due squadre muoveranno gli spiriti, che dovranno evocare delle emozioni, e con queste emozioni andare a conquistare i 5 reami, per plasmare l'identità centrale, che poi vedrete, di Serebria. Questa che vedete qui davanti, davanti alla miniatura dello spirito, è la plancia della fazione. I punti al fine del gioco, si possono guadagnare in due modi, le intenzioni, che è questo riquadro qua giù in fondo, sulla plancia della fazione, che potete vedere con dei valori, le intenzioni sono gli obiettivi minori. Praticamente, quando il giocatore soddisfa un'intenzione, la fazione ottiene subito i punti corrispondenti, per quello che c'è elencato sulla scheda, nel riquadro delle intenzioni. E poi ci sono le aspirazioni, che sono obiettivi comuni. Le aspirazioni sono aspirazioni chiuse, della fazione quindi loccate, chiuse da un lucchetto, oppure aspirazioni comuni, aperte con un lucchettino che vedete, qui è sganciato. Le aspirazioni segrete, si mettano qui, al centro della plancia, e potranno cambiare nel corso della partita. Poi, successivamente, i giocatori possano attivare eventi, che assegnano punti, detti rivelazioni, durante i quali si rivelano, e si valutano le aspirazioni, appunto le carte che avete visto, qua giù, messe sulla plancia. Così facendo, le fazioni potranno costruire l'identità, impilando i frammenti, che assegnano altri punti. L'identità di Serebria, viene plasmata con i vari mattoncini di colore delle varie fazioni, che sono poi alla fin fine arancioni, vi ricordate per i due tipi di emozioni, e blu, e verranno messi impilati al centro del tavolo, per formare l'identità di Serebria. Poi, a fine partita, i punti assegnati dai frammenti dell'identità, sono aggiunti ai punti assegnati alle intenzioni. Vince la fazione, ovviamente, che avrà più punti. Vi ricordo ancora una volta, che le fazioni in campo sono due, per le emozioni contrastanti. Quindi una fazione di colore arancione, e una fazione di colore blu, che si dovranno contendere i cinque reami. Come vedete, qua al centro c'è un perno, che dovrete ovviamente impilare sotto al tabellino di gioco, c'è un buco centrale, e voi dovrete prendere la plancia dell'origine, e andarla a mettere nel perno, quindi centrale al campo, che l'origine sarà dove voi plasmerete l'identità di Serebria, e quindi deve essere alla portata di tutti i giocatori, e dunque delle due fazioni. Quelle che vedete qua al centro viola, sono le gemme della forza di volontà, che per, come vedete, rappresentati i cinque reami, le cinque sfere, dovrete metterne sette per ogni sfera. Quindi sette qui, sette qui, sette, a riempire tutto quanto. Le cinque sfere dell'origine producono forza di volontà. Durante il gioco, gli spiriti potranno assorbire tale forza, quindi quelle là, per plasmare il mondo interiore. Come detto, ogni sfera avrà sette gemme di forza di volontà, quindi non ce l'abbiamo messa, ma le dovrete riempire tutti. Quelle che avanzano, dovrete metterle da parte, come riserva, alla portata di tutti i giocatori, perché potrebbero servire nel corso della partita. Quando una sfera viene completamente svuotata, il reami di Serebria affronta una rivelazione, al termine della quale la sfera si riempirà nuovamente. Quindi, quando verrà affrontata questa rivelazione, giocherete la rivelazione, vedrete l'evento, che cosa sta succedendo, e successivamente dovrete rimettere tutte e quante le sette gemmine all'interno della sfera. Poi c'è l'origine, ovviamente la parte centrale con il perno, che è il luogo dove verrà costruita l'identità di Serebria, che sono alla fin fine questi mattoncini qua, che sono quelli maggiori, che voi dovrete ovviamente andare a impilare nel corso della partita, quelli minori, che andrete a montare sopra, ed il frammento apicale, che è questa punta qua su in cima, e ovviamente ora l'abbiamo fatta tutta di un colore, come se stesse vincendo la partita, stesse dando l'identità a Serebria, soltanto una delle due fazioni. Però, vedrete anche i mattoncini, i mattoncini sono di colore blu, per una fazione, e arancione per l'altra. Quindi potrebbero essere anche costruiti, appunto, di diverso colore, per dare un'identità contrastante, e non certa, come in questo caso, al reame di Serebria. Comunque, una volta che tutti quanti questi mattoncini saranno stati impilati con l'apicale in cima, la punta, la partita sarà conclusa, e Serebria sarà stata conquistata, dalla fazione che avrà più punti, ma soprattutto avrà finalmente un'identità. Come detto all'inizio, i giocatori si dividono in due fazioni, che poi sono le emozioni maggiori contrastanti, gioia e malinconia. In questo caso, vi abbiamo fatto vedere uno spirito della gioia, inizialmente, e uno spirito della malinconia. Ragazzi, forse la parte più bella di Serebria, sono proprio queste miniature, che a parte sembrano essere uscite, proprio da un mondo onirico, da un sogno mezzo incubo strano di velleose, che è veramente soltanto una mente particolarmente creativa, potrebbe immaginare, però sono veramente bellissime, tra l'altro rispecchiano molto le emozioni, che vanno poi a interpretare. Guardate ad esempio, nella versione base del gioco, c'erano, sì, comunque disegnate bene, ma cartonate, mentre nella versione che abbiamo ricevuto da Kickstarter, che è un'esclusiva di Kickstarter, ci sono proprio le miniature in 3D, tra l'altro belle e grandi, il doppio rispetto ad esempio a uno Space Marine di Warhammer, quindi sono veramente bellissime. I compagni della stessa fazione, chiamo così, tanto poi fondamentalmente sono quelle, possono scambiarsi informazioni, possono mostrare le carte emozione, tra di loro, però assolutamente non si possono scambiare, né essenza, né forza di volontà. Poi c'è, nel caso di The Light, tra l'altro guardate bella la colorazione del disegno, sembra uscito da un gioco della Blizzard, e questa è la plancia del personaggio, quindi di The Light, con tutti quanti i suoi poteri, i poteri che potrà attivare le abilità, e in più c'è la plancia da questa parte, ve l'ho fatto vedere all'inizio della fazione, se vi ricordate, con le aspirazioni e le intenzioni. Entrambe le fazioni dovrebbero quindi giocare con lo stesso lato della faccia, su ogni faccia ci sono vari obiettivi e diverse intenzioni per fare i punti. Ogni fazione posizionerà sulla propria plancia tre gettoni che sono l'ambizione, a faccia in giù, quindi devono essere sempre a faccia in giù e coperti. E il proprio mazzo, come visto precedentemente, aspirazioni segrete mischiate, e ovviamente messa anche questa cerebria a due tipi di gioco. C'è il gioco quello semplice, con regole ovviamente per imparare a giocare, anche perché ragazzi, veramente non sto scherzando, è complicato, non l'ho detto per scherzare, e il lato hardcore, quindi con regole avanzate. Comunque per il gioco base dovete togliere tutte le carte riflessioni e sensibilità dal mazzo, delle aspirazioni segrete, ed in più non verranno usate le intenzioni. Ok? Quindi le intenzioni in una partita base toglietele, fate conto che non ci siano, perché già sono tante le regole da tenere a mente. Usatele soltanto quando sarete abbastanza bravi e navigati appunto nel gioco. Non dovete mai guardare la prima carta del mazzo finché non avrete scelto il vostro spirito e creato il vostro mazzo emozioni. Quindi le carte non le dovete vedere assolutamente fino a che non avete creato il mazzo emozioni, ma soprattutto scelto, come in questo caso, the light, il vostro spirito. Ogni fazione prende i gettoni intensità che li sono stati assegnati, più i vari segnalini essenza. E vi ricordo anche che ogni fazione deve prendere i pezzi dell'identità di Serebria che dovrà andare a costruire quindi tutti quanti i pezzi maggiori, minori, compreso l'apicale e metterseli da parte. Dopo che ogni giocatore ha scelto il proprio spirito, i rimanenti vengono riposti nella scatola, dopodiché gli stessi prenderanno la plancia e la pedina corrispondente allo spirito scelto. All'inizio di ogni turno dovete prendere il segnalino per tracciamentazioni e metterlo qua giù in fondo a sinistra. Questo poi spostandosi verso destra traccerà le azioni del vostro personaggio nel turno corrente. Quindi all'inizio di ogni turno dovete sempre metterlo in fondo a sinistra e per ogni azione che svolgerete si dovrà spostare verso destra. Poi posizionate due essenze, queste gemmine tonde di colore rosso, e quattro gemme forza di volontà che andrete a prendere, mi raccomando, non dalla parte centrale ma dalla riserva che vi ho detto di creare all'inizio. Le metterete sulla plancia del vostro spirito, quindi non su quella della fazione ma sulla plancia dello spirito, per ricordarvi che sono lì e potranno essere utilizzate nel corso della partita. Poi sempre all'inizio vi verranno dati quattro gettoni vibrazione che sono questi bianchi che dovranno essere disposti per le cinque caratteristiche o cinque abilità che ogni spirito avrà. Quindi questi gettoni vibrazione dovranno essere spostati sulla plancia per le abilità che ora vi faccio un esempio avrete sbloccato con il vostro personaggio. Quindi è una specie di potenziamento. Voi non soltanto dovete plasmare questa forza la parte più bella del gioco, l'identità centrale di Serebria, ma dovete plasmare anche le emozioni e gli spiriti perché questi spiriti sono mutaforma quindi potranno acquisire abilità diversificate nel corso delle partite così da rendere anche le partite sempre più varie e non avrete mai lo stesso librettino o comunque tabella delle abilità da utilizzare uguale alla partita precedente. Questo secondo me è un punto a favore. Ragazzi vi ho fatto vedere pressa a poco come funziona Serebria. Tra l'altro la versione Kickstarter esclusiva che noi ringraziamo ancora una volta per avercene fornito una copia per la recensione grazie veramente di cuore. Il gioco è bello, il gioco è complicatissimo e forse è quello che me lo fa valutare un po' meno perché questo è il classico gioco che trova una valutazione una di cuore e una di testa perché se lo dovessi valutare col cuore gli darei veramente come idea un'otto otto e mezzo però se lo devo andare a valutare con la testa e quindi andando a vedere regolamente tutto che proprio ve l'ho fatto ci sarebbero tante regole in più ma ve l'ho fatto per darvi un'idea perché è veramente complicato se ne dovessi dare un voto complessivo gli darei un 7 anzi gli do un 7 perché il gioco è bello il gioco è molto interessante il gioco è vario forse a differenza di tanti giochi che vedete lì dietro che una volta fatta una partita 2-3 4 esagerando poi basta li mettete da parte aspettate dell'espansione perché tanto è sempre quello questo è un gioco che ci potete andare avanti mesi se non anni perché veramente è il classico gioco alla root che è un gioco più che altro strategico e che quindi ogni partita non sarà assolutamente mai identica non segue una storyline quindi ogni partita è fine a se stessa ma è differente da quella precedente e le forze in campo sono poche ok dove sul root sono 4 qui invece sono 2 soltanto quindi già quello comunque semplificano il gioco ma ci sono troppe 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 regole il gioco secondo me l'idea c'è tutta però poteva essere snellito questo lo vedo il classico gioco uscito un po' per come la vedo io ragazzi poi sono recensioni mie personali non sono un recensore per una rivista né niente nemmeno un professionista però per come la vedo io soffre dello stesso problema di Deep Madness che avete visto all'inizio del canale io questo è un gioco che adoro Deep Madness però ogni volta che lo vedo nella libreria mi ci viene il magone sullo stomaco mi ci viene da piangere sinceramente perché è un gioco che ho una voglia matta di giocare però c'è talmente tanti token e regole buttate troppo cioè ne potevi fare un terzo veramente della roba che c'è lì dentro che soltanto preparare il tavolo per fare una partita ti ci vuole un'ora e per rimetterla a posto nelle buste e dividere tutti i token ti ci vuole un'altra ora ti passa la voglia di giocare perché per giocare mezz'ora 40 minuti ci vuole due ore di preparazione è troppa Serebria è come a livello di contenuti token e tutto sì ce n'è un pochino però sicuramente molto meno in linea rispetto ad altri giochi però c'ha troppe regole ragazzi troppe è un gioco che la prima volta che ci dovete fare una partita vi dovete leggere il regolamento voi dieci volte e per spiegarlo a qualcuno che non ci ha mai giocato ragazzi trovate veramente gente appassionata alle regole hardcore di un board game perché se no uno si mette così e si addormenta e quell'altro guarda l'orologio e quello dopo fa va bene stavolta giochiamo ma non lo portare più cioè il classico gioco che si porta a degli amici a una festa non è brutto è bellissimo però è troppo complicato la gente non ha voglia di tutte queste regole il board game deve essere fatto per svagarsi la sera magari dopo lavoro con gli amici tutto e non ci deve volere una laurea in astrofisica o in scienze per capire un regolamento ragazzi è troppo 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 complicato di tutti i giochi che abbiamo ricevuto finora è in assoluto il più complicato di tutti comunque ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate magari con un commento ripeto un video un po' così ma mi scuso ma è veramente troppo complesso ci vorrebbe un video da tre ore per spiegare tutte le regole il gioco è bello però mi sento di consigliarlo soltanto a quei giocatori hardcore che cercano veramente un manuale e una sfida molto più portata verso l'hardcore game che non in un gioco base dove si tirano dadi si legge una scheda cosa succede e finisce lì è un bel gioco assolutamente sì li do voto 7 su 10 però non è un gioco per tutti anzi è un gioco al massimo livello di nicchia quindi insomma valutate un pochino voi io ringrazio ancora per averci fornito una copia per la recensione grazie veramente di cuore grazie davvero Minecraft Games e insomma fatemi sapere cosa ne pensate in descrizione trovate poi il link per acquistarlo e tutti quanti i nostri link dei social e quant'altro ragazzi grazie per aver seguito anche questo video ci vediamo a una prossima recensione ciao belli